bentornati all'oroscopo di mercoledì 18 novembre si festeggia san oddone e partiamo come sempre con l'ariette una o un ex troppo insistente non si decide a sottrarsi alla vostra vista la soluzione più indolore per entrambi è quella di fargliela capire amici del toro non oziate a lavoro continuate a costruire basi di valore per il futuro è buona la disponibilità verso i colleghi amici dei gemelli la corsa verso il successo non accena a rallentare e non siete disposti a fermarvi neppure di fronte all'ostacolo più tortuoso cancro problemi legati a partner o famiglia contesti confusi un po complicati a cui far fronte impegni di lavoro che richiedono più tempo amici del leone godete i benefici degli influssi del sole di marte e cogliete il lato positivo delle cose accettate eventuali sfide viaggi e amori vergine la vita è vostra gestitela come vi pare piace l'amore è importante creare interessi comuni con il partner alla bilancia in coppia fissa un vero confronto richiede di lasciar perdere l'orgoglio e la paura del rifiuto che di solito chiudono ogni possibilità amici dello scorpione niente banalità aspirate a qualcosa qualcuno che vi porti lontano con la mente con il corpo fortunati gli incontri professionali sagittario buone prospettive per i giovani intraprendenti in attesa magari di sistemazione per ottenere ciò che volete dovreste agire sempre e solo alla luce del buon senso capricorno ci sono possibili divergenze con il partner o anche con i soci nelle questioni di cuore badate alla sostanza e non a futili particolari acquario il livello delle vostre energie sia fisiche che mentali è buono venere in vita a sottoporvi a trattamenti estetici per migliorare l'estetica e chiudiamo con i pesci ci sono buone forze fiducia in voi stessi e creatività nell'aria per questa giornata siete ambiziosi e sollecitati da un forte desiderio di affermarvi è tutto per l'oroscopo appuntamento da domani